Amici di Pipos Poker, se volete continuare a seguirci da casa potete farlo su blog.pipos.it e per la diretta tv su tv.pipos.it e per tutte le altre informazioni su tour.pipos.it Per tutti gli aggiornamenti andate sulla nostra fanpage Pipos Network e anche su Twitter e Instagram con lo stesso nome e con il nostro hashtag PipiTour. Come potete vedere il Day 1 è in corso, da pochissimo iniziato e potete seguirci su tutte queste pagine fino a lunedì. Mi raccomando, ciao! A tutti i giocatori benvenuti al Casino Campione d'Italia e soprattutto benvenuti alla prima tappa 2016 del Pipos Poker Tour. 200 giocatori già qualificati dall'online ed è previsto un field importante con grandi nomi dal panorama mobilistico italiano. Fatevi un bel applauso per iniziare l'ingioreggiamento. Quindi dealer, scioccolato e dealer!